Sì, guardi, ho chiamato, sarà mezz'ora fa da Santa Tecla, sembra che stiano confluendo dalla Madonna del Monte, stiano salendo su, ce n'è un gruppo qua dal forte di Santa Tecla. D'accordo, signora. Allora, senza, noi vi abbiamo cercato di mandarli via in qualche modo, ci stiamo preparando a cercare di arrangiarci perché sappiamo che voi siete in una situazione. Sì, ma evitate, signora, non andate giù in strada a prendere botte, lasciate stare, va. No, 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 non abbiamo solo parlato, siamo tanti, ci hanno detto che stanotte bruceranno il sordo. No, ecco, va bene, grazie. Siamo tanto cari questi ragazzi qua, comunque, se potete fare un giro su di qua, noi capiamo, vi capiamo benissimo, siamo con voi, però... Grazie, signora. Va bene, grazie, grazie ancora. Tranquilla.